Dopo essere stato rifutato bruscamente da Francisca, Leon non dà per vinto ed ecco che ottiene i primi risultati. Francisca gli propone di accompagnarlo a messa e poi di fare merenda con lui. In quell'occasione lui le chiede di diventare sua moglie. Ippolito continua a fingere di essere Marciano, e il suo inesistente cugino, per paura di non piacere a Quintina, si lascia trasportare dalle parole di lei e le dà un bacio, ma Quintina reagisce male. Gonzalo è tornato in paese, raccontando di essere stato ad un ritiro spirituale, quando in realtà era assieme a Maria. Fernando si sta organizzando per ereditare il patrimonio del padre, ma pare che non avrà nemmeno un centesimo. Iacinta finge di essere sconvolta per la morte di Ana, ma in realtà da quando è morta è terrorizzata, tormentata dal ricordo di ciò che le ha fatto, la ragazza si sente anche osservata. Annibale e Pedro hanno stretto un accordo in cui Pedro può vendere i loro formaggi con il marchio Miranar, così c'è più probabilità di guadagno.